Gesù non vede l'ora di averci per sempre con sé ed invece noi allontaniamo il più possibile il pensiero della morte perché abbiamo troppa paura e ci fidiamo poco della sua infinita misericordia. Gesù attende da noi che gli offriamo con amore e spontaneamente i nostri sacrifici per il bene di tutti, i quali lo glorificano, ma noi spesso non ne vogliamo sapere. Gesù ci attende per consolarci durante le prove confidando completamente in Lui ma noi cerchiamo la consolazione degli altri o ci buttiamo nei piaceri materiali. Gesù ci dona sempre gratuitamente ma noi pretendiamo spesso una forma di compenso o gratificazione. Gesù si offre interamente a noi ma noi spesso ci limitiamo a chiedergli delle grazie ed esitiamo ad offrirci a Lui imitandolo e compiendo il suo volere. Gesù crede in noi ma noi non sempre crediamo in Lui.